Ragazzi, ma cosa ha fatto Pomni? Si è mangiata letteralmente un cocomero intero e ci ha imprigionato! Ma poi guardate quanto è grande quel buco dell'ombelico! Oddio, c'è un'altra Pomni! Oh mio Dio, è vero! Ma un buco dell'ombelico enorme, guarda! Oddio! Un ombrello! Enorme, un ombrello, è vero! Io non avevo mai visto una cosa del genere! C'è anche Giuliano che è stato imprigionato! Chi è? Stavo dormendo! Ah, stavi dormendo? Come ti permetti? Non puoi dormire nella prigione di Pomni! Non si può dormire! C'è un letto! Dobbiamo scappare, dobbiamo scappare! Andiamo, andiamo! Prima che Pomni ci veda, zitto! Zitto e scappiamo! Ok, dobbiamo aprire questa grada! Siamo all'interno dei condotti! Vieni, vieni! Pomni, piccola Pomni! Che carina questa piccola Pomni! Vorrei carizzare! Chi è questo? Oh mio Dio, Freddy Fazbear! Sempre quello che... Anche lui! Oh, ma è una moda! Forse domani vado anche io! Guarda! Oh, c'è uno Jax! C'è anche Jax! Anche lui ha mangiato tantissimo! Ma forse... Oddio, che brutto! Madonna! Ma guarda poi il buco... Il buco dell'ombelico addirittura... Mi arriva fino alla schiena! Ha preso la forma! Il vestito ha preso la forma dell'ombelico! Oh mio Dio! L'hai detto con 5L, un bellico! Un bellico! Entriamo all'interno del condotto giù lì! Oh mio Dio, ho paura! Non è che potrebbe esserci anche Waki! Magari anche lui con l'ombelico sporgente! Andiamo, Dio, ho paura! Non voglio vedere! Ah, oddio! C'è Pomni! C'è Pomni! Oh! Ah! Aiuto! Sta per prendere! Aiuto! Oddio, che schifo! Mi vuole mettere la pancia in faccia! E' la malattia dei checommeri! E' vero, attento Giù lì! Mi vuole mettere la sua pancia sudata in faccia! Che schifo! Che schifo tutto il sudore della... Vuole spalmare la pancia in faccia! Aiuto la malattia dei checommeri! Scappa! No, ti prego Pomni! Oh, se ci sale lei sopra queste tubature... Sicuro le rompe! Fate una brutta fine! Infatti ha rinunciato! Ha rinunciato! Esploderebbe tutto! Oddio, attenta! Mi lasci passare! Mi scusi! Mi lascia passare! Perché questo individuo non lascia... Ok, piano, piano Giù lì! Dobbiamo andare qui! Piano! Dov'è la nostra piccola Pomni? No! Vabbè, no! Mi mancava Pomni in gira! È rimasta nelle tubature, poverina! O forse se l'è mangiata la madre! Papà! Che schifo! Come che schifo? Vieni qua! Entra qui dentro! Ah, che schifo! Cosa? Qui ha cagato qualcuno! Eccola la piccola Pomni! Qualcuno ha fatto la cacca! Che schifo! Ok, questo è il bagno giusto! Il bagno turco? Cos'è? Scaviamo, scaviamo! Dobbiamo scavare! Ah, oddio! Siamo sotto le fogne! Il cesso è caduto! Ah, questo è il cesso che doveva stare sopra! Ma che si dice, cesso? È la tavoletta del water! Il water! Mamma mia, quanti siete maleducati! Sei sgarbato, Giuliano! Guarda, tutti con l'ombellico di fuori! Vogliono tutti... Che sconci! È l'ombellichite! Oddio, queste potrebbero cadere! Ah, no! Oddio! Povero! Come faccio ora? C'è un problema, piccolo... Sì! No! Giuliano vuole farmi le cascare! Guarda, no! No, piccola Pomni! Vai, Pammi! Attenta, piccola Pomni! Poverino! Riposa in pace, piccola Angela! Vieni, papà! Perché stiamo entrando nella bocca? Nella bocca di mandibola? Ho paura! Eccolo il mio scheletro! Aspetta, lo faccio all'indietro! Uh! Aspettami, Pomni! Ho visto una Pomni simpatica! Aiuto, c'è una palla rosa! Pomni, scelgo te! Vieni qui, Pomni! Eh, aspetta, 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 aspetta! È dolcissima questa Pomni! C'è anche una... Attenzione! È un abbraccio! Attenzione, c'è una My Lady! Eh, mi scusi! Mi scusi, io sono un po' timido, eh! Andiamo insieme, andiamo! Voglio andare solo con Emi! Emi, ti seguo ovunque! Ai Dio, Emi! Emi, Emi è morta! No, sono morta anche io! No, non è morta! Evviva! Le può passare ovunque! Ce l'ho fatta! A lei la palla non la becca! Non le becca mai! Pomni, vieni! Vabbè, ho capito, Pomni! Noi dobbiamo rimanere insieme per tutta la vita! Ok! Andiamo, Pomni! È arrivato il momento di andare! Corri, piccola! Ti salverò io, Pomni! Ti porterò io in salvo la tua madre! Prima che lei... Eh, no! Povera Pomni! Questa la tagliamo! L'ha fatta a pezzettini! I mattoncini di Lego! Non ti aiuterò più, Pomni! Saliamo, saliamo, saliamo! Ma lei mi sta aspettando! Eh sì, ti ha aspettato, Polletto! Si è innamorata! No, c'è, c'è! Ah, c'è Jax! Ciccione! Aiuto, Jax! No! No, Jax! Oh, Dio! Guarda la sua pancia! Oh, no, Jax! Lo sai che mi sembra Jax con questa bacchetta? Oddio, come si chiamava? No! È pericoloso perché... Eh, non mi ricordo... Eh, Harry Potter! No! È pericoloso perché potrebbe risucchiarti nel suo ombelico, eh! La preside della scuola di piccola Matilde, te la ricordi? Ah! Come si chiama? Trincia Bue! Trincia Bue! Ragata con questa panciotta così! Non posso vederla! Fammi vedere l'ombelico! Che a me mi piace l'ombelico! Fammelo vedere! Tu sei un'esperta di ombelichi! Sei proprio la studente... Ho questo fetiche per l'ombelico! Hai il dottorato in ombelichide! Ok, pronti a saltare! Ok, abbiamo... Abbiamo detto che sta... Abbiamo bevuto una bevanda energetica, non lo so! Forse era Monster! E ora stiamo volendo veloce! Ma la piccola Pomni dove è? È bevuta una Monster! È Pomni è rimasta proprio... È sparita Pomni! No! Pomni! Oh! Qui stiamo saltando! Vediamo chi arriva prima! Ho Giuliano dietro! Ma non posso farmi prendere da Giuliano perché lei... Non è una gara! Scappiamo in pasta! Ah! Ora non è una gara! Quando mi incoherà! Senti che ruttone che ho fatto! Ma che schifo! Quello era un discoreggio! Non è che mi è venuta pure a me l'ombelicone... Quello uscente! L'ombelichide! L'ombelichide! Attenzione! Attenzione! Potremmo essere... Quelli sono tipo dei colloqui! Guarda! L'hai visto? Come quando siete in carcere! E qui sì! E' come se... Quindi è proprio come la prigione! Oh! E' prendi? E' come se fosse... E' la prigione dei bambini però! E' una prigione dei bambini all'interno del circo di Pomni! Levati! Sto a portare la scala! Aspetta! La porto anche io! Pronto! Dobbiamo fare una ristrutturazione qui! Prego! Bettiamo la scala! Passeremo sopra questa scella per i padri! Pomni! Ho paura che Pomni ci prenda! Papà! Perché mo ci sono... Freddi grande e... Freddi piccolo! Perché è figlio e padre! Capito? È figlio e padre! Tutti e due! Guarda! Stesso un bellico! Stesso un bellico e stessa maglia! Oddio! C'è una forza che ci spinge! È l'aria! L'aria! È l'aria della ventola! L'aria! Vabbè lo facciamo saltando allora così cerchiamo un po' di... Pomni dove sei? Pomni è sparita la piccola Pomni! Io volevo essere insieme a lei! Ok! Saltiamo su questi tubi! Ho tanta paura Giulio! Ho sempre paura di saltare su questi tubi perché ho paura che si stacchino! E poi Pomni! Oddio! Ecco! Sto arrivando Giuliano! Aspettami! Madonna! Ma che cos'è? Quanti tubi ci sono? Un labirinto di tubi! Non ho ancora capito come si fa arrivare là! Dove dobbiamo saltare? Là! Là! Guarda! Come si fa! È impossibile! È impossibile! Forse dobbiamo saltare da qui! Aspetta dal tubo! Guarda sali sul tubo e salta qua! Ma... Mamma mia! Sono un genio! Ma il mio tubo è invisibile! Apprezza il mio consiglio di teletipo! Papà ma il mio tubo è invisibile! Volevano farlo più difficile! Più difficile! Forse hai messo la modalità hardcore! No! Non l'ho messo hardcore! Attenso! 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 Woohoo! Ok! Te l'ho chiusi tutti! Aiuto papà mi dai una mano che i miei tubi sono invisibili! C'è anche un'altra ragazza intrappolata nel circo! Che sta tentando l'evasione! Ma Emi! Emi quella che mi ha aspettato! È vero Emi! Sei andata senza di me! Mi sono affezionato anch'io ad Emi! Emi! Pomni! Non c'è più nessuno qua! Oh no! Se riperdi un'altra volta fatti la skin da nubo! Eh aspetta! Ok! Se ti cadete la prossima volta farà la skin da nubo! No! Eccolo! Non è vero! Eccolo! Sei un nubo! Ma ha spostato la mano! Che nubo! Ma ha spostato la mano! Oddio ho paura! Ho paura che ora becchiamo pomni! Pomni con l'ombelico di fuori! Pi pomni non ci può salire! Eh penso di no! Oh papà c'è un gatto che si chiama Ebaluba! C'è un Ebaluba? Oh mio Dio! Ebaluba! Mio Dio fratellino sei davvero brutto! Andiamo andiamo! Corri 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 corri! Qua si va veloci! Qua si va veloci Giulia! Stai attento! Dobbiamo saltare al momento giusto! Al punto giusto! No 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 no! Non dobbiamo farci prendere! Non dobbiamo farci prendere! Dove sei? Ho paura! Ah! Mi sta a tremmare tutta la mano! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia è pieno di condotti di ventilazione! Ma dove ci stiamo ficcando? Ok dobbiamo andare dentro quel buco! Siamo all'interno di una tubatura! Ho sempre paura delle tubature! Non lo so! Beh mettono un po' di ansia! Eh forse perché soffro di clostrofobia! Oddio c'è ragata! C'è ragata del Digital Circus! Aiuto no! Giuliano gli è passato sotto le gambe! No ragata! Fudzuca! Ah anziché bazooka foodzuca! Sì perché spara del cibo! No ragata! Ma questi se lo mangiano il cibo! Eccolo eccolo infatti la dobbiamo di nuovo! Infatti se lo sta a mangiare! Mangiare fino a svenire! Ma perché non gli tolgo la vita? Forse la devo sparare nell'ombelico! È vero nell'ombelico! Via dentro l'ombelico! No vabbè non ci chiedo allora aveva un senso l'ombelico così grande! Oddio! Papà! Dove sei finito? Che cosa è successo? Cioè sono solo saltato sulla pancia di ragata! Oddio! Cos'è un altro universo? Oddio dove sono? Hai pagato tutto il gioco! Cioè sono tipo in un mondo! Oddio sto cascando! È un mondo parallelo! Oddio! Aprite il paracadute vi prego! Il mio sogno è un scivolo gigante! Ah dobbiamo scendere lungo questo scivolo! Sì è il mio sogno! Rutolone regina! Non più riscono mai! Ti tapperà del tuo sogno Giulie! Ora hai realizzato il tuo sogno sei contento? Sì ti odio! Dove sei andiamo? È l'uscita? No è un troll! Ti pare? È sicuro un troll! Ok oh mio dio siamo all'interno del circo! Dobbiamo schivare questi laser! Vieni Nabbo! Andiamo! Zitto stai zitto! Prima che ti prendo a calci! Io ti prendo a calci! Ti faccio mangiare da pomni! Ma là c'è il deserto! È l'uscita! È il deserto! È l'uscita! Ok dobbiamo salire qui e prendere delle travi! Dov'è? Papà la sai la tattica vero? Non c'è bisogno portarli i trenta! Ma va ma lo so! Lo so! Ok riprendiamo! Eccolo! No Giulie! Non abbiamo premuto il bottone all'inizio! Ah! Che apri la porta! Oh! No non è qui! Allora dobbiamo solo andare... Ah dobbiamo passare che ci andiamo vicino! Ah! Faggiano! Io sono andato tu no! Cos'è questo? C'è un power ranger! Oddio power ranger! Guardala guardala rapidissima! Aiuta! Guarda come batte da dentro! Dobbiamo spararla forse sempre sull'ombelico! Fa un boccio di danno! Però questo roba non ha un ombelico! Sulle braccia dobbiamo beccarla! Oddio pomni! Ecco un braccio è andato! È bocco! È rimasto di... Ah! Mi rai se la metti a dieta o sai che ti combino? Eccola! Sarà arrabbiatissima! È esplosa! Pomni! No! Volevo darti un bacetto sull'ombelico! Che schifo! Sarà tutto sudato! Che schifo! Vai! Saliamo! Ok stiamo andando! Aspetta! No! Fuggiro senza di te! Non voglio! Non ti voglio vicino! Ti odio! Ho rotto tutte le porte! C'è un altro SWAT eh! Come c'è un altro SWAT? Ti vengo a pazzare! Scappiamo scappiamo! Ti tiro i cocommeri! No! Ma vai che li mangio! Tira me che me li mangio! Ma dov'è quest'asilo? Nel deserto l'hanno fatto proprio? Sì 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 è una prigione sperduta! Ho lanciato una pizza! È un circo sperduto in una prigione sperduta! Oddio mi stavo a paura dell'altezza! Cadi! Sono frutti i vertigini! Cadi! Pomni con l'ombelico dove sei? E pomni anche senza ombelico dove? Ah ecco c'è l'elicoccero! Sì sì sì! Lo stiamo evadendo! Adios! Adios amici! Eh basta! Perché? No non mi viene mandato! Aspetta Giuliano poverino! Addio Giuliano! È stato bello! Va benissimo ragazzi ce l'abbiamo fatta! Qui ci sono tutti quegli affetti da un bellichite come Chica, Baby, Siren Cop, Baby Chica! Se vi è piaciuto questo video lasciate like ed iscrivetevi al canale per tanti altri contenuti proprio come questo!